Da Taranto, Luigi Abate, la zebra parlante, Juventus Club Lizzano Bianconera. Intanto un giudizio su Sampdoria Juve, 0-1, non mi è piaciuta la Juve, ha tenuto il campo non certo in maniera igreggia, non ha saputo, ha mantenuto il risultato, però come gioco, come tenuta non ci siamo, andrà cambiato registro contro il Barcellona, altrimenti non so come andrà a finire, anzi so come andrà a finire, andrà a finire molto male. Ma al di là di questo parliamo del deferimento di Andrea Agnelli, stiamo parlando di una mostruosità giuridica, bella e buona, stiamo parlando di, io li definisco, atti inconcepibili ed illogici, quelli compiuti dalla Procura federale che hanno deferito Andrea Agnelli per violazione degli articoli 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, principio di lealtà, correttezza e probità e l'articolo 12, prevenzioni di fatti violenti. Sapete tutti che vi è stata, vi è una inchiesta penale in corso, da questa inchiesta penale in corso, la cosiddetta Alto Piemonte, attraverso intercettazioni ambientali, attraverso intercettazioni telefoniche non è risultato alcun coinvolgimento della società Juventus, di alcuni dei suoi esponenti né tantomeno del Presidente Andrea Agnelli, che peraltro figuravano solo nella veste di testimoni. Arriva la Procura federale con a capo Pecoraro ed ecco che si cambiano le carte in tavola, senza elementi nuovi, senza altri elementi, perché signori cari, com'è possibile che ora si deferiscano Agnelli e altri rappresentanti del club? Su quale basse? Dal momento che la giustizia ordinaria ha fatto i suoi accertamenti, con indagini meticolose, capillari, con intercettazioni da dove se ne esce la Procura federale a poter deferire Agnelli e gli altri? Ma stiamo scherzando, ma questo è un mostrum iuris, è una mostruosità giuridica. La giustizia sportiva non deve assolutamente credere di avere una sua extraterritorialità, cioè di essere avulsa dai principi normali, dai principi basilari della giustizia ordinaria. La giustizia sportiva non può calpestare il diritto, le norme, i principi giuridici. Qui stiamo calpestando i principi giuridici perché da una inchiesta, da tanto di analisi, di indagini fatte dalla Procura ordinaria, fatte dalla giustizia ordinaria. Non c'è un capello, una virgola a carico della società Juventus e di Agnelli. Come vi potete permettere, permettervi di incriminarli? Ma stiamo scherzando? Ma la giustizia sportiva come funziona? Ma ci siamo dimenticati Calciopoli che ha voluto affossare la Juventus e che ha di fatto salvato l'Inter perché le intercettazioni relative all'Inter sono uscite cinque anni dopo? Dobbiamo dirle queste cose o no? E allora signori cerchiamo di capirci, non tolleriamo queste mostruosità giuridiche. Addirittura Agnelli sembrava Totorrina, Agnelli che avrebbe incontrato personalmente esponenti della malavita, ma stiamo scherzando. E di tutta questa storia, di queste favole, come mai la giustizia ordinaria non se ne è resa conto? Non può credere la Procura sportiva di vivere in un mondo a parte, in un mondo in cui la Juventus deve essere affossata sol perché vince. Questa è la realtà. E allora ribelliamoci civilmente, democraticamente. Sarebbe forse il caso di organizzare una bella manifestazione a Roma, civile, democratica, pacifica, sotto la Procura sportiva. Non possiamo essere calpestati, non si può calpestare il diritto. E chi si deride o fa allusioni alla Juventus e ad Agnelli, dimostra di essere ignorante giuridicamente. Dico ignorante perché la giustizia ordinaria ha fatto il DNA e non è uscito niente. Non si è visto mai da nessuna parte che per la giustizia ordinaria Agnelli è testimone e per la giustizia sportiva diventa imputato. È una vergogna. Da Taranto, Luigi Abbate, non la zebra parlante, ma dovrei dire il leone parlante, è tutto. Alla prossima, Marcello. Non ho voglia neanche di sorridere. Siamo stanchi. E la nostra stanchezza, la nostra pazienza, sempre civilmente e democraticamente, ha un limite. Basta!